Oggi abbiamo ricevuto un'altissima onoreficenza che si affianca a quella del Cavalierato di San Serafino che mi era stata concessa dal Patriarca di Mosca. Adesso due delle chiese ortodosse più importanti russe, grazie al ruolo che abbiamo svolto a tutela del culto di San Nicola, ci hanno onorato con queste onoreficenze. Ovviamente sono anche una grande responsabilità perché il mondo in questo momento è in una grande tensione che noi ci auguriamo possa essere rapidamente superata. A febbraio Papa Francesco sarà qui proprio per far dialogare i patriarchi di tutto il Mediterraneo e i Vescovi e credo anche e soprattutto per pregare insieme per la pace nel mondo. Il ruolo della Puglia è questo e noi stiamo cercando umilmente da meri facilitatori di cose pratiche di fare in modo che la Puglia sia all'altezza delle aspettative di tutti.